Ciao ragazze, oggi vi sto preparando un video tutorial davvero bizzarro, purtroppo nel mio pc non ci sono dei programmi giusti per realizzare un video con una sequenza di foto, per cui adesso dovete accontentarvi di quello che ho la mia testa elaborato. Allora, il video tutorial sull'anello a fiore, me l'avete chiesto in tanti e sono stata felicissima di realizzarlo per voi. Allora, iniziamo con il materiale che è il seguente, 18 Swarovski da 4 mm, un Rivoli da 14 mm, Delica 11.0 e Rocail 11.0. Per prima cosa dovete incastonare il Rivoli dentro con le Delica e con le Rocail, io ho fatto solo un giro di Rocail nella parte in alto del Rivoli, mentre sotto ho fatto due o tre giri per fissare meglio il lavoro. Dopo aver realizzato l'incastonatura, posizionate il filo esattamente in questa maniera, perché dobbiamo iniziare a realizzare i petali in alto del nostro fiore. Quindi il filo deve entrare nella Delica subito sotto all'unico giro che ho fatto dei Rocail in alto, nella parte alto del Cabochon. Dopo aver posizionato il filo, dovete inserire uno Swarovski e una Rocail da 15.0 e fare ripassare il filo nello Swarovski per formare una sorta di puntina. A questo punto basta fissarlo al Rivoli passando nell'archidelica accanto, in questa maniera. Dobbiamo iniziare subito a creare tutto il giro completo di Swarovski, per cui io consiglio, visto che stiamo utilizzando Swarovski da 4 mm e non da 3 mm, di lasciare uno spazio tra uno Swarovski ed un altro, in modo che non rimangano troppo attaccati e che possiamo poi con le Delica creare con tutta tranquillità i nostri petali. E quindi andiamo avanti e realizziamo tutto il giro di Swarovski, questa è una sola parte per farvi vedere giusto appunto uno spazio che lascio tra uno Swarovski ed un altro. e subito dopo aver realizzato tutto il giro portate il filo in questo modo, lo fate entrare nello Swarovski e successivamente nella Rocail, perché dobbiamo iniziare a fare i nostri petali. Ok, a questo punto inserite 4 Delica, ecco, e fate passare il filo questa volta nella Delica, adesso avvicino un attimo, nella Delica di base del Rivoli, esattamente tra i due Swarovski. e creiamo così una parte di petali, ok, niente, a questo punto rinfilate altre 4 Delica e fatelo passare, questa volta, dentro nella Rocail dello Swarovski accanto. e ricreiamo così un'altra parte di petalo, e niente, così via, cioè voi dovete creare tutto il giro nella stessa maniera. ok, vedete, questo è il primo petalo completo, e poi qua, mentre stiamo già a un buon punto, e questa qua è la parte finale, vi troverete con il filo nella Rocail del primo Swarovski. A questo punto noi dobbiamo andare sotto, quindi posizioniamo il filo sotto, in questa maniera, ok, perché dobbiamo andare a creare il secondo giro di Swarovski e successivamente di petali. Allora, a questo punto, vedete, esattamente come vi ho spiegato prima, iniziate a inserire lo Swarovski, la Rocail e così via, per creare il giro di Swarovski. ok, vi trovate come prima il filo sopra la Rocail, e niente, a questo punto creiamo i petali. I petali, io questa volta, per il secondo giro, invece di usare 4 Delica, ho utilizzato 6 Rocail. e niente, ho iniziato, dovete andare avanti, come vi ho detto prima, per realizzare tutto il giro di petali con le Rocail. ecco fatto, quindi adesso abbiamo realizzato la parte del nostro anello fiore, non vi resta altro, adesso vedrete altri passaggi, che, o altre parti, di come è venuto. non vi resta altro che portare, stavo dicendo, giù il filo, e iniziare a creare la fascetta. ecco qua, affrancate, iniziate la fascetta con il solito peyote, che sapete tutte fare, e niente, dopo aver fatto la fascetta, l'anello è pronto. eccolo qua, un'altra foto, dal davanti, e di lato. niente, adesso io vi saluto, spero che, anche se il video, come ho detto prima, è bizzarro, vi sia piaciuto, e... vorrei vedere i vostri anelli fiori, e... e niente, dai, alla prossima, ciao ragazze!